Easy go Cremo al piano, neutralizziamo i sistemi di allarme e mettiamo l'aria in sicurezza, dieci minuti all'attacco Cosa aspettiamo? Vedi il sistema d'allarme? C'è una saracinesca dietro al vetro, entrare non sarà facile Trovato Da dove iniziamo? Ho i dati sul sistema di sicurezza, dovremmo riuscire a disattivarlo, seguimi Presto sarai dei nostri Grazie Grazie Libertà Drone di sorveglianza, dobbiamo liberarcene Non sarà così semplice Noi siamo superiori ma sono loro a darci ordini Le cose cambieranno Marcos Grazie 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 a tutti. 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 Libertà. Libertà. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.